Sì ragazzuoli, buona vista al vostro, ectorello della Pignacola, e fin da se andiamo, se è tutta Tutti ragazzi, a me via, chiamate tutti di voi, e vi è il cancio molto più bello del mondo Siamo qui in quel di Priverno, ammirate Priverno, per dirvi una notizia importante Ho presentato ufficialmente, ho presenziato la domanda per diventare un operatore scolastico ATA, esattamente ragazzi, quindi aspettiamo il risponso, vedete il video bene Per vedere se andrò a far partire qualche scuola in provincia di Latina come Bidello Che dir si voglia segretario, ho anche applicato ragazzi, vedremo qualcosa Mi chiameranno, mi verrò aggiornati, è un'estate piena di divertimento, insomma, piena di lavoro, di sacrificio Perché avevo detto a settembre, ottobre, amatori, amatori, voi, insomma, verso settembre comunque Operatore scolastico, dovrei anche ricominciare l'università, e domani ragazzi, nuovo video, nuova sfida ragazzi Con Luca, lo juventino, faremo una bella, una bella, una grande partita, veramente ripresa Sempre dal sottoscritto, e buona prima quella di menci alla prossima scherina, buona Arrivati